benvenuti i miei sudditi qui il vostro dio morreto che vi parla oggi faremo qualcosa di davvero speciale ma prima devo devo evocare il faraone toton kamon dall'aldilà ecco faraone grazie maestro prego non si preoccupi è un vero onore averla qui in questa sede dell'egitto a commentare queste secche ma la devo informare che la serie non si chiama secche d'egitto ma si chiama secche stellare non è un problema che penso io ma siamo nello tu che cazzo ci fai con la tunica non so io sono andato a letto in pigiama ragazzi dobbiamo capire cosa è successo sigla sigla bentornati ragazzi nella nuova serie di secche stellari terzo episodio i primi due episodi sono stati apprezzatissimi ragazzi abbiamo fatto delle view incredibili grazie a tutti per il supporto e come avete visto siamo partiti primo episodio era giusto per capire come era la sera secondo episodio michelino che fa morire da ridere ed ecco un episodio divino un episodio divino abbiamo appunto il dio dei boomer e del sole a mondo insieme l'alboretto ragazzi super richiesto se devo dir la mia siccome sono stato tanto atteso se questo video non fa 50.000 mi piace per chi si è perso gli episodi precedenti questa è una serie in cui commentiamo le vostre cadute che mi avete mandato alla mail che vi lascio sempre qua sotto ricordagli una cosa fondamentale di iscriversi al canale che adesso siamo in 100.000 mi sembrava molto convincente di iscriversi al canale e vorremmo arrivare al milione prima o poi mettere mi piace perché adesso youtube è un po' biricchino e commentare per dirci un po' come state come va la giornata ma questo è del mestiere ragazzi no tenete bene a mente che a fine video noi incoroneremo come al solito la secca migliore del dell'episodio verrà incoronato il dio di questo episodio dei delle alboretate ho una domanda per l'alboretto qual è la tua secca più prepotente quella che proprio ti ricordi che è l'alboretata tra l'altro anche se la caduta peggiore è stata quella della caviglia che però abbiamo il video febbraio scorso si ha rotto la caviglia vuol dire che l'alboretata più forte è stata probabilmente le scorpionate che ho tirato quando stavo imparando flip immaginatevi ragazzi quello che avete visto nel video della 100k challenge quando ho fatto che mi sono mollato con la bici così immaginatevi avere un atterraggio sul duro mi ricordo aveva già imparato flip sul duro sul mulch lui un giorno lo sapeva già fare sul mulch sotto sopra e lo vedo sparire di collo dietro l'atterraggio possiamo iniziare a vedere le vostre cadute frato particello impennatina questo è il motivo per cui ho paura di impennare ragazzi il frenino in mano quando si impenna prima regola bosco qua alberi potrebbe esserci del dolore quanto cazzo ma veloce sembra una figa figo oh 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 un grande oh ma sai cosa voleva fare voleva attuare la tecnica della mimetizzazione ah vedi è un ninja è una notizia di **** nooo però così mi dissocio ma anche senza casco ma questa clip è altamente diseducativa riguardiamola è molto diseducativa questa clip sembra le braccia del pazzo tra l'altro questo qua guardate il braccio da stegosauro игрale suoni ragazzi casco mi raccomando sempre eh casco sempre piano piano scalcia via proprio oh ho salvato ho salvato aspetto allarga che ho bravo ho detto allarga come aspetta? è una bacchetta di Harry Potter è una bacchetta di Harry Potter Gli hanno fatto una valla che nabra Oh valla che nabra Veloce anche Il rischio c'è Ma veloce ragazzi Ho perduto un po' il controllo No anche qua No Fortuna che l'albero è piccolo Mi ricordavo un po' la caduta Prendere un pin in motomai Che anche lì il pinetto era piccolo E Pete aveva preso il manubrio con l'albero Ma che cazzo dice Finalmente qualcuno che mi invia delle clip Full HD Ho già visto questo posto Nel sasso Quando gli dicono se scemo mangi i sassi No Madonna che stecca Rivediamola È uscito A posto Giornata secchissima Ovviamente E' il butto Anche lì ha staccato la bacchetta Potrebbe dare il sorpreso Ecco Micchia ma che stecca poverino Non l'ho capita molto È saltato Era storto Ah gli è proprio scivolata Però bravo Guarda che ha messo subito giù le mani Guarda che bravo È stato reattivo Non come alburetto Rallenty Belli rallenty Mi piacciono sempre Ma com'è spettacolare questa caduta Albi Bellissimo Mamma è esploso È esploso Baraceni sta alla fine Baraceni in alto Dello spazio anche lui Sai che stella Sai che stella Fila No Cosa è fila? Fila si si Fila Fila Oh Oh Aia Mamma mia Qua si sarà una Hai sentito che ha detto Aia Prima di prenderla? E qui non ho capito Gli si è puntato per terra il pedale Si è inchiudata la bici E poi un mezzofronio Un bel mezzottino fronio Capisco di soccorrere gli amici Ma quando vi hai detto una secca così La secca si filma fino alla fine ragazzi Per secche stellari questo e altro Fraticello Porco cane Le palle Il convento valeva la caduta Le palle Penino secondo me Lungo eh Eccolo Eccolo là Il nostro amico Il nostro amico Johnny Ricordiamo che quando si impunta Si dice Johnny Salutiamo Johnny a casa Ciao Johnny Saluta Johnny Ma cosa che stavo dicendo? Silenzio Vedi lui però Vedi eh L'ho ripresa Si vedi Questo è un uomo distrutto Però vedete cosa Quando diciamo di filmarle Tutte fino alla fine Perché è questo che dà Quella spinta in più La secca stellare In strada Sgomata Ha provato la sgomata perfetta Ricordiamola Nel mio tutorial Video 10 che devi fare in bici Un milione di views Tra poco Ah qua giusto Questo qui È da Marco Perché mi hanno mandato La stessa secca Ma da due angolazioni Una s Sembra un biper Non so quale Però In grasso in corona Devo dire Bello bello cattivo Vediamo un'altra angolatura Angolazione Angolazione Però Anche da davanti Eh che dire Questa è una bella secchina Dinamica al punto giusto Ragazzi Però questo meme È passato di moda Che stack DH DH per potente Qua un alboretto E sarebbe car... Oh Che suono Che suono Le cadute in DH Ragazzi Devo dire che sono sempre Le peggiori Perché Quando si cade Poi si cade Proprio come in questo caso Sulle rocce C'è sempre qualcosa Per terra Di appuntito Molto appuntito Penatina Mi sa che qua È vicino a un brickman Oh Eccolo No Ah no Però Ha tolto la mano Qui mancata la presa Ruota girata Secca Qui Era spaventato Di brutto Metti alla mano Ah no C'è la faccia Pum Pacciatina per terra E poi Alla fine Soffia Con un po' Un po' di vento Devo dire Non ho usato i miei Mie death cut Non ho usato i miei Death cut A vero Non puo sempre di più controllo Gritto per te Per te Oh fly Oh fly Manubrio a sinistra Mamma mia Ma proprio Mani in avanti Manubrio in pancia Vabbè Silenzioso Senza auto Madonna Pelato l'albero Pelatino lì l'albero Mi sa che l'ha preso No Mi sa che l'ha preso Poi Perché gli si chiama lo scherzo E' arrivato tutto indietro Proprio E mi sa che è arrivato indeciso Spallata Spallatina Facile Ti ho fatto male le palle Attenzione Sci Influ Cosa è successo? Beh quando comunque è così Quando c'è la neve fresca così Basta un attimo punte di sotto la neve Avemo un modo di sperimentarlo Secche stellari Non discriminiamo nessuno Esatto Per poterle mandare in bici In sci Qualsiasi sport Basta che siano secche Prepotenti e originali Nel senso vostre Questa la promette bene Provate bene Vediamo Speriamo alla prossima BM BM Ah staniata 36 Oh Che stecca Allora 36 Ha fatto anche bene Poppato bene Però gli si è buttato giù Davanti a metà 36 Che bru Sai chi ricorda? Adesso non mi ricordo C'è un BMX Una caduta famosissima Di un BMX che ha fatto Tipo Halfgab dalla mega scalinata Che si chiama il toro Ultima Che c'è? Secca Ultima secca Oh oh Ragazzi Il casco ragazzi Il casco Bene alboretto Abbiamo visto ben Più di 30 cadute Anche oggi Ma Non sono deluso Un episodio veramente Ricco è questo Ma proprio Zuccoso Golosone Dopo una Veloce Rianalisi di tutti i video Kinkoroni Sono molto indeciso Tra l'ingheppata della vita In drop E la secca In 3x Mi sa che la droa Quella del drop Perché Ingepporeto Perché è inghepporeto E poi perché Quella di BMX È un errore Mentre quella col drop È proprio Arrivata dal cielo Bene ragazzi Siamo giunti Anche al termine Di questo Terzo episodio Di Secca Stellari È sempre un piacere Vedere tutte le vostre cadute Mi piace veramente un sacco Mi sto divertendo sempre di più E soprattutto La qualità delle cadute Sta aumentando Sta aumentando Assolutamente Bravi che cartellate così tanto Un applauso Fatemi sapere nei commenti Chi vorreste vedere In un prossimo episodio Di Secca Stellari Come al solito ragazzi Come ho detto prima Mi piace Iscriveteci Diteci Chi volete vedere Nei prossimi episodi E noi ci vediamo In un prossimo video ragazzi Semplici giusto? Molto semplice Ma ragazzi Mi raccomando Ci vediamo a una prossima Alboreta Bye Ciao